Se si inizia a perdere la memoria non dobbiamo per forza esclusivamente pensare a malattie neurodegenerative come ad esempio l'Alzheimer. Ci sono altri tipi di condizioni che possono causare questi disturbi e che per fortuna possiamo correggere. Ma prima di iniziare, se è la prima volta che guardi il mio video, lasciate che mi presenti. Sono il dottor Recinella, specialista in medicina interna, e in questo canale mi occupo di prevenzione di disturbi metabolici, disturbi della memoria e tanto altro. Se questi contenuti ti possono interessare mi raccomando iscriviti al canale per non perderti prossimi. Questo gesto mi darebbe un enorme aiuto. Ci sono delle condizioni che personalmente vado a controllare nel momento in cui mi trovo davanti una persona con perdita di memoria. Per spiegarvele voglio partire da un caso reale, ovvero quello della signora Maria. Maria è una signora di 64 anni, in buone condizioni di salute e lavora come impiegata. A parte la pillola per la pressione, il ramipril, non assume altre medicine. La signora Maria è in ottime condizioni, conduce un lavoro appagante e ha un'attività intensa, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista familiare. Inizia a manifestare da circa due mesi dei disturbi della memoria, inizia a perdere colpi, per cui i familiari allarmati un giorno decidono di portarla in pronto soccorso. In pronto soccorso la signora Maria viene sottoposta a un attack della testa, un attack encefalo, che fa vedere dei minimi segni di atrofia cerebrale. Viene anche sottoposta a un elettroencefalogramma che, a parte alcune anomalie specifiche, non mostra i risultati di rilievo. La signora Maria viene trattenuta in osservazione e viene sottoposta ad una serie di esami. Tutti vanno bene a parte 1, ovvero la vitamina B12. E qui ci ricolleghiamo alla prima causa di perdere di memoria, ovvero le carenze vitaminiche, specie le vitamine del gruppo B, come appunto la vitamina B12, la vitamina B3 e la vitamina B1, anche nota come tiamina, ridotta di solito negli alcolisti. Per concludere la storia della signora Maria, Maria dopo una correzione di vitamina B12 è tornata a casa al suo lavoro e alla sua famiglia e attualmente gode di ottima salute. Una seconda causa reversibile di disturbi della memoria è rappresentata da alterazioni ormonali, in particolar modo da alterazioni a carico della tiroide. Si ha un'iperfunzione tiroidea, quindi un ipertiroidismo, ma anche una riduzione della funzione tiroidea, un ipotiroidismo, possono essere alla base di disturbi della memoria. Ma non solo, possono generare dei disturbi comportamentali, delle alterazioni del tono dell'umore con fasi di tono dell'umore depresso e anche fasi di agitazione e disturbi a carico della concentrazione e dell'attenzione. Per cui davanti a una persona con disturbi della memoria è sempre buona norma dosare gli ormoni tiroidei ed anche il TSA, ovvero l'ormone che regola la produzione di ormoni tiroidei. Un'altra causa reversibile invece è rappresentata da alterazioni degli elettroliti, specie alterazioni del sodio e del calcio. Alterazioni di questo tipo possono manifestarsi con stati confusionali, disturbi della memoria, instabilità emotiva e disturbi muscolari. E correggendo la causa torniamo alla vita di prima, ma non dobbiamo esclusivamente concentrarci sugli esami del sangue, ma bisogna raccogliere la storia. Infatti vi sono numerose medicine che possono causare alterazioni cognitive e disturbi della memoria. L'elenco è infinito e quindi sarebbe impossibile fornirvi una lista assolutamente completa, ma possiamo però ragionare su alcuni principi generali. Il primo principio è andare a valutare se vi sia stata l'introduzione di un nuovo farmaco o la modifica del dosaggio del farmaco che possa essere più o meno corrispondente alla comparsa dei disturbi della memoria. E in secondo luogo verificare che non ci sia l'assunzione di alcuni tipi di medicine che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il classico esempio è rappresentato dei farmaci comunemente utilizzati per dormire, come ad esempio le benzo di azepine. Delle volte un eccesso, un prolungato utilizzo di questi farmaci può essere alla base di stati confusionali e riduzione delle performance cognitive, per cui andrebbe ricontrollato il dosaggio del farmaco oppure ci sarebbe la necessità di sostituire questo farmaco con un altro tipo di farmaco o pensare addirittura alla sospensione. Un'altra causa reversibile di disturbo della memoria è rappresentato dal delirium. Il delirium è una condizione che non va confusa con la demenza anche se non è sempre facile. È un disturbo dell'attenzione che fa l'esordio nel breve periodo e tende a fluttuare nell'arco della giornata. Si associa un disturbo dell'attenzione a fasi confusionali ed è tipico degli anziani che si ritrovano in ospedale o sono sottoposti ad un intervento chirurgico, ma può essere secondario anche a infezioni, come ad esempio infezioni non inerenti al sistema nervoso centrale, come infezioni delle viurinarie, polmonite e tanto altro. Ma a proposito di infezioni non possiamo trascurare quelle che sono le infezioni del sistema nervoso centrale. Delle volte fanno l'esordio proprio con dei disturbi della memoria e delle alterazioni comportamentali, come meningiti, meningoencefaliti, neurosifilide e tante altre condizioni. Ci possiamo aiutare qui con degli esami del sangue per partire che ci possono permettere di individuare un elevato livello di quelli che sono gli indici di infiammazione, come ad esempio la proteina cirattiva. Un altro aspetto da valutare invece è l'abuso o l'astinezza da sostanze, come ad esempio l'alcol, droghe e anche alcuni tipi di farmaci. Questo vale sia nei giovani ma anche negli anziani. Infatti, non raramente nella mia attività clinica, mi è capitato di individuare persone anziani con delle cattive abitudini, specie in termini di alcol o abuso di farmaci. Prima di saltare alla conclusione che si tratti di una demenza, ricordiamoci quindi di escludere anche queste cause, che sì sono meno rare, ma se individuate permettono di tornare alla vita di prima. Se sei arrivato fin qui penso possa interessarti anche questo video dove parlo di buone abitudini per ridurre il rischio di demenza. Io vi aspetto al prossimo video e come al solito vi mando un abbraccio.